Ciao a tutti ragazzi, qui non è quello che vi parla e oggi siamo in un nuovo video In questo video ho scaricato un'applicazione che fa vedere direttamente e fa registrare dal vostro telefono il vostro schermo. Iniziamo a fare una partita e proviamo se ci avviciamo. Proviamo eh, ora con il verso di cura malata. Iniziamo, non parlerò tanto perché ci vuole non concentrano mentre fa la partita. Allora l'anna come barbari. Anche se sprecò tutto però mi piace un sacco. Prima come un momento, vabbè, ai cicatini, ai cicatini, ai cicatini, ai cicatini non ci credo. Guarda che c'è un gigante. Stiamo facendo tantissimo da un muro, però non la faccio, 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 anche via un po' pate. Questa alla faccio. No, iniziamo a qualche po' iniziare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.